In prima ti dicono l'anno più importante perché è il primo anno, in seconda ti dicono l'anno più importante perché ci sono i livelli, in terza l'anno più importante praticamente sono tutti gli anni importanti. C'è stata una rivoluzione rispetto ai nostri genitori, magari di voglia, magari che noi magari, molti di noi magari hanno anche meno voglia di studiare che magari, che magari ma che lei, mi sembra di un buco! Non avrò tanto tempo di stare con lui. Non voglio lasciare i miei compagni. Non voglio lasciare i miei compagni.